È andato via un carissimo compagno di squadra e amico, anche perché abbiamo fatto militare anche insieme, perciò ho tanti bei ricordi con lui, senza parlare poi dello scudetto che abbiamo vinto insieme a Cagliari. È stato un carissimo amico, una persona seria, un ottimo calciatore e penso che quando arriverà quando sarà arrivato un paradiso l'avranno festeggiato anche lui. Mi dispiace, era tanto che non lo vedevo e non averlo potuto salutare. Ciao, buon vero! Tornerà la voglia di sognare Quando Gigi riva tornerà Quando Gigi riva tornerà Torneremo tutti in serie A Dopo tanti calci di rigore Troveremo insieme l'umiltà Per ricominciare con più cuore Quando Gigi riva tornerà Gigi riva era un ragazzo molto serio, perché nella sua gioventù aveva sofferto tanto. E sicché Gigi con noi era un amico, si parlava sempre, si parlava sempre di gioco del calcio, di questo, dell'altro, a volte si andava al mare. Il compagno era molto serio, però la sera quando si rientrava in sede, in sede lì dove si dormiva, via, si entrava nelle nostre camere, ci si metteva, ci si aveva la televisione, c'era il biliardo, c'era il ping pong, O si faceva la partita a carte, era sempre, preparava sempre qualche scherzo per tutti. Io l'ho visto, l'ho detto, tre mesi fa, sicché ci ho parlato a Natale con Gigi. Gigi era un mito, un mito, anche con Boninsegna si è parlato, a proposito, mi disse, mi disse, giocando, dice, se si giocasse ora io e Boninsegna si farebbe 60 come marcano ora, 60 go a testa al campionato. Questi problemi sono da raccontare, quando Gigi li va, tornerà.